Sono due anni e tre mesi, quattro quelli che sono, da allora che io aspettavo una risposta. Sono contento che abbia capito che non avevo altri modi per poterne uscire in quel momento. Aspettava questa notizia da oltre due anni Freddi Pacini, nonostante al momento sia ancora incredulo, il GIPA della Tribunale di Arezzo ha infatti deciso di archiviare il caso. Non ci sarà dunque nessun processo per il gommista di Monte San Savino, che nella notte del 28 novembre 2018 sparò ed uccise il giovane moldavo di 29 anni che si era introdotto nella sua officina. Dobbiamo ancora renderci conto veramente che da oggi forse ricomincia un po' la nostra vita, che comunque era stata interrotta da troppi anni. La procura per ben due volte aveva già chiesto l'archiviazione, facendo leva sulla vecchia legge con la legittima difesa putativa. Adesso il giudice Fabio Lombardo ha disposto l'archiviazione, che poggia però sulla nuova legge. Il GIP infatti ha applicato il comma 55 della riforma, in relazione all'eccesso colposo di legittima difesa, per la quale la punibilità è esclusa, se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. In quei momenti ti passa tutta una vita davanti, tutto quello che hai fatto e tutto quello che hai avuto fino a quel momento. Pacini da tempo dormiva all'interno della sua officina, esasperato dai furti subiti. Quella notte fu svegliato dal rumore di una vetrata mandata in frantumi con un piccone. Con la pistola regolarmente detenuta esplose così cinque colpi, due proiettili raggiunsero il 29enne ed un colpo risultò letale. Il giovane fu infatti colpito da un proiettile di rimbalzo, come stabilito poi dalla perizia. Io spero oggi che non finisca, ma che oggi mi cominci una tranquillità e che possa andare avanti come sono andato forse meglio di quello che ho passato anche negli anni precedenti al fatto. Con tutto questo non è che mi cancello quello che è successo, perché è un fatto grosso. So che c'è una persona che purtroppo non c'è e questo non me lo potrò mai dimenticare.